buonasera e bentornati sul canale oggi vedremo come utilizzare il nostro iphone come un interruttore per la nostra casa domotica con ios 14 la apple ha introdotto la possibilità di utilizzare il tocco posteriore del nostro punto smartphone per attivare alcune operazioni tra cui anche quella di gestire i comandi rapidi quindi oggi vedremo come sfruttare questa possibilità per attivare quindi per spegnere o accendere delle luci all'interno della nostra casa home kit vediamo subito come viene gestita la cosa per prima cosa dobbiamo aver creato un comando rapido in questo caso come vedete ne abbiamo due uno lampadina rgb e l'altro lampadina salotto se entriamo dentro alla lampadina salotto vediamo appunto quali sono le operazioni che dovevano essere eseguite da questo comando rapido vi ricordo che questo comando rapido l'abbiamo già visto all'interno di un video dedicato appunto ai comandi rapidi e alla possibilità di utilizzarli con i tag nfc vi lascio qui il link e visto che ci siete magari iscrivervi anche al mio canale quindi la prima cosa da fare è quella di gestire un comando rapido in questo caso abbiamo gestito un comando per la lampada del salotto per cui a seconda del suo stato quindi se la lampada è accesa verrà spenta se la lampada è spenta verrà accesa quindi abbiamo questa possibilità sia per la lampada salotto ma l'abbiamo fatto anche per la lampada rgb e questa che vedete qui dietro di me vicino al macintosh andiamo poi nelle impostazioni del nostro iphone e ci posizioniamo all'interno di accessibilità questo qui qui dentro in accessibilità andiamo su tocco e ci portiamo in basso fino a trovare vedete tocco posteriore clicchiamo su tocco posteriore e andiamo a utilizzare i due comandi disponibili vedete abbiamo un tocco doppio quindi dopo doppio tap sulla parte punto posteriore del cellulare oppure un tocco triplo andiamo attivare gli attiviamo tutte e due facciamo prima il tocco doppio quindi tocco doppio e possiamo scorrere come vedete sono tanti comandi che possiamo andare a gestire con questa funzione ci sono quelli di sistema ci sono qualcuno appunto che riguarda l'accessibilità ma noi portiamoci giù e andiamo a finire su comandi rapidi e qui andiamo a selezionare il nostro comando rapido questo caso lampada salotto abbiamo finito come vedete adesso è attivo adesso vi mostro come funziona come avrei visto è simpaticissima la cosa quindi dando due colpetti sulla parte posteriore del nostro smartphone abbiamo acceso spento la lampada del salotto ma facciamola anche con il tocco triplo quindi torniamo sempre nelle nostre impostazioni e in questo caso andiamo ad attivare il tocco triplo e facciamo appunto abbiamo il comando rapido lampadina rgb e adesso facciamo la stessa operazione la facciamo adesso vi dirò cosa succede avete visto tocco triplo si è accesa la luce alle mie spalle lo rifacciamo tocco triplo si è spenta la luce avete visto quindi come simpatica questa operazione perché abbiamo appunto trasformiamo diciamo così il nostro iphone in un pulsante rapido per tutte le attività che vogliamo adesso ho fatto accendere una luce una in salotto una qui nel mio studio ma possiamo decidere di fare tante operazioni quindi attivare e magari una azione che spenga tutte le luci o che le accenda tutte o che attivi magari le telecamere di sicurezza l'antifurto eccetera davvero simpatica abbiamo un pulsante sempre con noi il video finisce qui fatemi sapere se anche voi avete mai utilizzato questa funzione di tocco all'interno del vostro iphone e perché cosa la state utilizzando prima di lasciarci vi ricordo sempre di iscrivervi al canale di lasciare la campanellina per essere informati sui nuovi video e magari di lasciare un commento e un like noi ci vediamo in una prossima puntata sempre qui sul mio canale un grande saluto e un abbraccio da stefano